Teniamoli qui i nostri animali, siamo responsabili, sterilizziamoli, non abbandoniamoli e cerchiamo di tenerli nella maniera migliore possibile per il loro e per il nostro benessere. Da 100 giorni al lavoro, nominata con decreto del sindaco per tutelare i piccoli amici a quattro zampe, ma il ruolo di garante dei diritti degli animali, Stella Cervasio lo svolge già da tempo, impegnata al fianco di associazioni che si battono per il rispetto di cani e gatti. Da maggio scorso svolge con passione e a titolo completamente gratuito l'incarico affidatole dal comune, intensificando le attività di controllo sul territorio e di contrasto all'illegalità. Per questo con la polizia, in particolare con il questore di Napoli Luigi Merolla e con il vice questore Michele Spina, stiamo portando avanti un piano di sequestri, di ispezioni e ci sono anche delle prescrizioni fatte dai veterinari dell'AS del frullone diretto dal dottor Vincenzo Caputo e stiamo cercando di regolamentare un po' un settore che è piuttosto disordinato. Tra i compiti più impegnativi affidati al garante degli animali c'è sicuramente il contrasto al fenomeno dell'abbandono. Circa 30 cani al giorno quest'estate sono stati trovati in strada ed oltre 100 quelli recuperati su sollecitazione del garante dai vigili del fuoco e dalle associazioni di volontariato cittadine, anche fuori dal territorio di appartenenza. In collaborazione con l'associazione AXA, il garante ha inoltre contribuito alla raccolta del cibo per il sostentamento degli animali dello zoo. I risultati raggiunti sono ancora inferiori a quelli che vorremmo raggiungere ma insomma stiamo su una buona strada. Per la tutela dei diritti degli animali a Stella Cervasio si è affiancata in questi mesi una squadra di volontari già impegnati in campagne di sensibilizzazione da avviare nelle scuole e per la realizzazione di un vademecum in caso di emergenze. Io faccio appello ai cittadini napoletani affinché il più possibile prendere in caso un animale temporaneamente, sia un affido temporaneo o sia per aiutare anche questi sequestri. Perché molto spesso i sequestri non si possono effettuare perché non c'è dove mettere questi animali. Non c'è bisogno di esportare, io sono contraria alle esportazioni massicce di animali verso il nord perché tutti quelli che portiamo al nord molte volte finiscono in canile. I reati nei confronti degli animali possono essere denunciati? Alla mail del garante, garanteanimali.comune.napoli.it Naturalmente alle autorità, quindi alla ASL, ci sono dei numeri dell'ospedale veterinario Frullone e ricordiamo che noi abbiamo l'unico servizio di ambulanza veterinare che funziona 24 ore su 24 e poi numerose sono le associazioni sul territorio che lavorano e molto e tutto a titolo totalmente volontario. Grazie a tutti.